Allora, la mia proposta è quella, smart subito e a costo quasi zero. È una provocazione in realtà, quando ho preparato ieri sera queste slide ho ragionato su tutto il percorso che abbiamo fatto. E ho detto, vabbè, con la crisi che viene avanti come facciamo a diventare una città smart? Ma secondo me lo si può diventare molto semplicemente modificando le abitudini delle persone e trasformandole in comportamenti virtuosi. E sono andata a rileggermi qual è la definizione di smart, cioè la smart è un ambiente urbano in grado di agire attivamente e migliorare la qualità dei cittadini. E come? Utilizzando anche la tecnologia. Ma noi oggi secondo me siamo già tecnologici. Infatti, noi abbiamo dei dati molto importanti, abbiamo delle centraline che ci dicono qual è la qualità dell'aria. Le nostre centraline ci hanno detto che per esempio nel 2011 abbiamo sforato 45 volte sulle PM10, contro i 35 consentiti. E abbiamo sforato 28 volte sui 25 consentiti. Per cui io dico, noi siamo già smart, utilizziamo la tecnologia per darci delle informazioni. Noi adesso dobbiamo utilizzare queste informazioni per avere un ambiente urbano migliore. Tra l'altro i dati scaricati ieri sera ci dicono che anche quest'anno abbiamo sforato, su 35 consentiti siamo già a 40. Per fortuna piove da qua fino all'ultimo dell'anno, per cui non batteremo lo scorso anno. Però in realtà non è che a Pordenone si è fatto qualcosa per contenere l'inquinamento. E non possiamo continuare a dire che l'inquinamento dell'aria data a Pordenone sia solo dovuta a contributi che provengono dal Veneto. Perché l'aria da là tira verso qua. Daremo anche noi un contributo a questo inquinamento? E quindi che cosa possiamo fare? Beh, dobbiamo analizzare da cos'è dovuto. Traffico, caldaie e industrie. E allora ho fatto un paio di ragionamenti su queste cause. Noi abbiamo un traffico parassitario, abbiamo il ring che è molto veloce. È diventato un'ottima scorciatoia, quindi la gente prende il ring per andare da una parte dell'altra della città. Quindi abbiamo un traffico parassitario, lo subiamo e non ci dà assolutamente alcun beneficio. Lo stesso vale per come è formato il ring. Per entrare e uscire dalla nostra città bisogna percorrere tutto il ring. Soprattutto per quelle persone che non conoscono bene Pordenone. Quindi si mettono in questo fiume, si lasciano trascinare e vai che continuiamo a girare su questo ring. E si crea un loop, sempre giriamo. Dobbiamo spostarci da una parte all'altra, prendi il ring e fai il giro. E poi abbiamo un altro tipo di traffico che inquina Pordenone, che è quello che è dato per raggiungere determinati servizi. I nostri supermercati, quelli diciamocelo chiaramente con i prezzi più vantaggiosi, sono stati portati tutti all'esterno della città. Per cui anche chi vive nella nostra città, che sta diventando in alcuni quartieri un po' un dormitorio, per raggiungere il supermercato riprendi la macchina per andare a fare la spesa. Questo è un semplicissimo esempio di come noi subiamo una situazione, di come la possiamo modificare, ma senza dover intervenire o particolari intelligenze. Basta mettere un cartello. Si può modificare la segnaletica? E se qualcuno legge che per entrare in centro città, anzi che poter andare a 60 all'ora, si deve andare a 30 all'ora, ci pensano due volte e dicono io il centro non lo prendo perché il ring non è veloce, il ring è lento. Quindi prenderò un altro percorso. Un'altra cosa dove possiamo intervenire molto bene per l'inquinamento della nostra aria è intervenire sulle caldaie, perché il riscaldamento è una delle fonti principali di inquinamento, perché in città abbiamo ancora molte caldaie vecchie, sia in edifici pubblici, sia in alcuni palazzi. Il grosso problema nei palazzi è che è difficile sostituire le caldaie perché non si riescono a mettere ad accordo gli inquilini. Però esistono adesso delle soluzioni che si chiamano ESCO, che sono delle società che si prendono in carico il rischio dell'investimento nella sostituzione della caldaia. E come si pagano la loro spesa, la loro consulenza? Prendendosi una parte del risparmio energetico che avviene per esempio all'interno dei cinque anni. Quindi la nostra amministrazione dovrebbe spingere per fare in modo che chi ha delle caldaie vecchie, basta guardare la data di produzione, c'è ben poco che presentino le analisi dei fumi, si sa che è una caldaia costruita prima di una certa data inquina e la si invita a sostituirla, si può benissimo fare intervenire l'ESCO e quindi a costo quasi zero si può migliorare questo problema. Un'altra cosa a cui ci tengo particolarmente ed era una cosa che avevo proposto anche già a Agenda 21 è legata al problema o alla possibile risorsa del riutilizzo dei rifiuti. Noi parliamo molto di prevenzione, quindi alcuni di noi bevono l'acqua del rubinetto, comprano merce sfusa, in realtà la normativa ci dice di fare il riuso. Beh, stanno nascendo in Italia delle cose molto interessanti che io le chiamerei il last minute market dei rifiuti. Un rifiuto o comunque un oggetto obsoleto che non utilizziamo, per esempio che proviene da un trasloco dove ci accorgiamo di avere tante cose inutilizzate, prima di essere portate in piazzolo ecologico o prima di metterle all'interno del contenitore del secco non riciclabile, bisogna poterle portare in un centro del riuso, che molto spesso vengono gestite da delle cooperative che si autosostengono vendendo degli oggetti che qualcuno vuole buttare via. Quindi prendiamo due piccioni con una fava, i rifiuti non vanno in discarica, anzi tre, i rifiuti non vanno in discarica, hanno una seconda vita e possiamo anche dare dei posti di lavoro delle persone facendo questo tipo di attività. E poi un'altra cosa, proprio per basarci sulla tecnologia, l'importanza di fare rete. Ci sono già tantissimi comuni in Italia, i cosiddetti comuni virtuosi, che sono in rete tra di loro e si scambiano un sacco di informazioni e un sacco di idee. Uno dei loro slogan è, se tu hai una mela e io ho una mela e ce la scambiamo, comunque tutti e due rimarremo comunque con una mela. Se invece tu hai un'idea e io ho un'idea e ce la scambiamo, avremo tutti e due un'idea. Per cui partendo da qua, secondo me, dobbiamo diventare smart gratis. Due idee, scusate!